a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se vi fa piacere se vi va di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella in questo modo vi arriverà un'email ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale e per non perdere i nuovi video insomma e che vi aspetto anche su instagram vedrete passare il nickname sovraimpressione e trovate i link diretto sotto nell'info box quello è un social molto più attivo rispetto al canale quindi avremo modo di interagire di conoscerci di più vi aspetto anche lì mi raccomando poi se mi mandate un messaggio e mi dite che seguite il canale sarò felicissima di fare lo stesso con voi vi aspetto spacchettamento avan ho fatto un altro ordinuccio a fine campagna eccolo qua è arrivato stamattina super pesante mi ero un attimo preoccupata perché avevo trovato il pacco da una parte aperto se mai metto lo spezzone qua sopra è stato sicuramente il corriere però sembra sembra che ci sia tutto comunque adesso che facciamo il video ricontrollo per sicurezza e niente andiamo a vedere subito cosa mi hanno ordinato e cosa ho preso per me tanto ho preso un po di bustine guardare che carine bustine in cartone a buona con il manico in corda viola troppo troppo carine ho preso cinque bustine piccole poi come al solito troviamo il lavon outlet e l'ho sfruttato in quest'ordine sono una cosa che ho preso dall'outlet ho preso un blocchettino dell'ordine per fare le ricevute a chi ordina perché avevo quasi finiti poi avevo preso tre nuovi cataloghi ma me ne hanno mandati tre anche di quelle vecchie vabbè anzi no quattro di quelli vecchi che mi dò faccia perché sta per fine di mese va bene comunque eccoli qua quelli nuovi la campagna di aprile la numero 9 e poi ci stanno ma fortunatamente sono solo tre che mi dò faccia tre campagne tre cataloghi che io non avevo messo di marzo grazie poi l'anteprima io adoro l'anteprima soprattutto perché ci sono sempre delle cosine avon casa con tutti i prodottini per la casa questo che cos'è c'è un'offerta esclusiva un debriano con delle offerte esclusive ok come al solito c'è la bolla d'accompagnamento si sono questo mese ho preso anche le le etichette adesive così voglio attaccarle dietro ai cataloghi e adesso visto che ho qui tre 10 attaccherò un po delle etichette vi metterò di farò circolare insomma per trovare i nuovi clienti ne approfitto e poi ci sono i prodotti tiro tutto fuori e vi faccio vedere c'era in questa campagna l'offerta sulle matite e la mia amica ionela ne va matta per queste matite glielo ho presa adesso metto l'ordine che ha fatto la mia amica eccole qua e quindi se prendevi due matite le pagavi 7 euro e 90 e lei ha preso due matite bene l'umatite nere così e una verde e quest'altra invece che è acqua sparkle che è un bellissimo verde quindi due dello stesso colore 7 e 90 e una 4 e 99 che è un bellissimo verde poi ha preso il rossetto che avevo preso io la campagna scorsa che dovrei aprire qui vi faccio vedere il mio ovviamente non lo posso aprire questo è il pack e questo è il colore molto bello e sarebbe pure pink e questo sta a 5 euro e 99 e poi ha preso il contorno occhi il power stay nella colorazione pink light e questo stava a 5 euro e 99 centesimi e quindi questo era l'ordine che ha fatto la mia amica io per me ho preso il tonico pensavo fosse più grande ho preso il tonico mattificante della clear skin e questo qua in pratica è adatto per chi ha la pelle grassa e impura lo voglio proprio provare poi come vi avevo anticipato ho preso un prodotto che stava sull'outlet andiamo a vedere insieme sperando che ne va sono un set di anelli la bigiotteria dell'Avon è troppo troppo carina è carina anche la scatolina guarda che bella gialla con queste striature dorate che sono appunto un set di anellini adesso li metto così ve li faccio vedere questa è un po grande potrei mettere il pollice che sono di varie misure questo mi piaceva troppo quindi possiamo metterli anche sono bellissime in pratica sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anellini allora questi tre fatti in questo modo una è una fedina normale l'altra è una fedina decorata e quest'altro che sembra quasi che ha il simbolo della vergine poi di qua troviamo una fedina con le pietrine rosa e l'altra invece sempre lavorata di qua questo che è bellissimo che rimane leggermente aperto con le pietrine d'oro e poi qua sempre questo con le pietrine c'è una fedina fatta a zig zag cerco di distanziarli per farli vedere c'è una fedina fatta a zig zag questo con le pietrine e una fedina sottile sottile vero carinissimi mi piacciono e questi ho pagati sull'outlet a 3,99 euro se vi interessa mi chiedete il codice e ve lo dico e poi come ultima cosa ho preso una novità per la prossima campagna è un nuovo profumo questo è Havon Have Privé bellissimo anche il pack non vedo l'ora di sentirlo ovviamente è una profumazione molto molto primaverile che bella anche la bottiglia è bellissima prima di sentirlo lo voglio un attimo cercare così vi dico le note allora eccoci qua fatto quindi dice come te sono unica con croccanti note di mila rossa delicati pedali di gelsomino e caldo legno di cedro per un tocco personale bello e questo sarà come offerta lancio a 16,99 euro la bottiglia è bellissima e adesso andiamo a scoprirlo insieme che buono buonissimo molto delicato romantico fa pensare proprio alla primavera che bello mi piace se si lo userò tantissimo fate conto che farò e aurora l'ho quasi bevuto praticamente quindi adesso tocca a lui contenta di averlo preso allora voglio dare un'occhiatina alle anteprime vediamo se c'è qualche profumo nuovo già l'ho visto allora nuovi rossetti ultrashinomer nuove matite per sopracciglia un po' carica un po' carica e poi eccolo qua il mio spirito è vivo celebro l'estate e esce incandescent soleil questo ogni estate esce per regalarci nuove emozioni super solari esce una nuova linea della planet spa dell'avon care esce la linea all'aloe citriolo insomma ci sono anche nelle prossime campagne delle belle novità oh che carine io adoro la bitiotteria e l'avono davvero bellissima poi molto più bella dal vivo che vista magari da catacolo infatti questi due che sono proprio enormi cioè soprattutto questo è enorme gli altri sono carinissimi e quindi niente questi erano lo spacchettamento per quanto riguarda la campagna 8 penso l'ultimo che ho fatto in questa campagna con qualche anteprima per quanto riguarda la campagna numero 9 io spero che come al solito il video vi sia piaciuto vi sia stato di compagnia utile ma non bacio e se vi bacio vediamo la prossima volta se volete entrare in avono me lo scrivete sotto e vi guiderò io la mia dolcissima responsabile un bacio e al prossimo video ciao